Prime Day era solo ieri, oggi è arrivato il primo della miriade di pacchi che abbiamo ordinato quindi con voi l'unboxing del primo dei vari pacchetti Cattera alla mano e via! La cosa buffa è che non so che cosa ci sia dentro perché abbiamo ordinato talmente tante cose in questi giorni che è una sorpresa, mi sembra un po' come Natale Vediamo che cosa abbiamo nel primo dei vari pacchi Tutto questo lo togliamo Cosa abbiamo preso? Andoer Abbiamo preso la testa remotata per il nostro slider Eccolo qua Andoer E vi farò sapere com'è e come funziona Pesantissimo E rumoroso Non faccio in tempo ad aprire un pacco che ne arrivano altri due Quindi unboxing di altri due pacchi, sempre Amazon Partiamo col più piccolino Mi sento come un bambino Allora qui abbiamo una fantastica SanDisk Extreme Pro per la nuova telecamera Che però non è ancora arrivata Si fa desiderare Inizieranno, io lo so come andrà a finire Arriveranno tutti gli accessori E la telecamera che era quella che mi interessava di più La Sony Alpha 6300 arriverà per ultima Però vabbè daremo un'occhiata anche a questo E vediamo il secondo pacchetto Track Apertura super veloce per i nostri pacchi Amazon Vediamo che cosa c'è qui dentro invece Eh sì, sempre Sempre per la nostra Alpha Sony 6300 Abbiamo l'amplificatore Che ci servirà poi per collegare l'auricolare alla telecamera stessa Perché la 6300 non ha jack d'uscita della telecamera E quindi non si riesce a sentire l'audio Se non tramite degli accrocchi Che guardando in internet poi ho trovato E ho scoperto come funzionano Gli oggettini che sono arrivati nella giornata di oggi sono questi tre Vediamo se ne arrivano degli altri entro questa sera Oppure aspetteremo domani Ciao a tutti